Questo ero io, Troy. Questo era MacDog. E lui era Deason. Il destino di ognuno di noi è già scritto. E una volta che sei dentro uscire è quasi impossibile. Guardate qui, che spettacolo. Quando hai i soldi non sei mai sicuro al 100% chi siano i veri amici. E lui. Facciarmi quel tuo giorno fortunato. Figlio di puttano mi rovini la maglia di Versace. Versace? Vi ecciterà un sacco. Questa non è una macchina degli sberri. Fa il culo, hai ragione. Scappate, bastardi! Il greco ha un bel lavoretto per noi da 750 mila dollari. Si tratta di rapire un bambino. Non mi sembra una buona idea. No, non sto dicendo che lo sia. Vieni, bello. Eravamo una famiglia. Già. Ma non posso dire che sono sorpreso. Ma non posso dire che sono sorpreso. ...